Anche a Nazareth e in Galilea l'atmosfera è cambiata a causa della diffusione dell'epidemia di coronavirus e delle relative misure preventive introdotte dal Ministero della Salute israeliano. La vita quotidiana della popolazione locale, così come nel resto della Terra Santa, non è più la stessa. I negozi sono quasi vuoti, molti hanno chiuso. Nelle camere degli hotel non ci sono più turisti che venivano qui, attirati soprattutto dalla Chiesa dell'Annunciazione, cuore pulsante della città. Non ci sono più pellegrini nella Chiesa dell'Annunciazione a causa della cancellazione di tutti i viaggi verso la Terra Santa e la decisione di mettere in quarantena chiunque arrivi dall'aeroporto di Tel Aviv per due settimane. È molto triste vedere Nazareth così in questi giorni. Attualmente le persone stanno cercando di comprare cibo, prodotti per la pulizia e molte altre cose per proteggersi. La gente ha paura, non sa come affrontare questa situazione. Ci si saluta da lontano e questo è un ottimo modo per proteggersi a vicenda. Siamo preoccupati per gli anziani che vivono nelle nostre case. La gente non lascia le proprie abitazioni e noi stiamo facendo del nostro meglio per proteggere noi stessi e coloro che abbiamo intorno a noi. Ogni capofamiglia sta cercando di tenere la propria famiglia, i bambini, il nonno e la nonna a casa. La cosa più importante è la sicurezza della famiglia. Le persone corrono a comprare cibo anche nel villaggio di Cana, nella bassa Galilea, dove Cristo ha compiuto il suo primo miracolo. Padre Abdel Masih Fahim, segretario generale delle scuole cristiane in Israele, spiega che le scuole cristiane hanno adottato il metodo dell'educazione a distanza. Aggiunge che gli studenti e gli insegnanti stanno incontrando alcune difficoltà nel vivere questa nuova esperienza. Per esempio, non in tutte le famiglie c'è un computer disponibile per ogni studente. Un'altra conseguenza delle misure preventive introdotte è che entrambi i coniugi devono rimanere in casa. Alcuni esperti dicono che stare a casa può generare tensioni tra marito, moglie e bambini. La Chiesa guarda questa situazione in modo diverso. Certo, possono nascere incomprensioni, ma questo è il sale della vita. Potrà anche essere l'opportunità di arrivare a conoscere meglio i figli mentre stanno crescendo, visto che le nostre vite quotidiane ci sono che impediscono di passare un tempo sufficiente con loro. La seconda opportunità è per il padre e la madre, che possono conoscersi l'un l'altro maggiormente e rafforzare il loro legame d'amore. La terza opportunità è per la famiglia, che ha la possibilità di pregare insieme assistendo alle messe trasmesse attraverso i social media da Nazareth. Possono pregare insieme nella loro piccola chiesa, la chiesa familiare. La Vergine Maria, nostra madre amorevole, non cessa di provvedere a noi donandoci sicurezza, pace e speranza. La Vergine Maria è colei che disse sul luogo dove oggi sorge la chiesa dell'Annunciazione eccomi sono la serva del Signore. Così diventò la madre di Dio. La Vergine Maria ci dà salvezza, speranza e la fiducia che il Signore non ci abbandona, ma è con noi. Dalla chiesa dell'Annunciazione questo è il saluto della Vergine Maria. Eccomi, sono la serva del Signore.